15 giovani artisti provenienti dall'Accademia delle Belle Arti di Bari e da altre parti d'Italia selezionati per un workshop che intende trovare delle strategie artistiche per informare sui pericoli dell'amianto e promuovere la bonifica totale delle oltre 30.000 tonnellate di amianto ancora presenti in Italia. Si chiama Fibronit, il passato delle morte, il futuro della lotta, il progetto dell'artista Gea Casolaro a cura di Spazio Murat. Il workshop servirà a scoprire cosa sanno le giovani generazioni della storia della Fibronit e dell'amianto e come il parco della rinascita che sorgerà negli spazi della fabbrica barese Abbaptuta continua a mantenere viva la memoria dei morti e delle lotte contro i danni e alla salute provocati dall'amianto. È un modo per parlare dei problemi connessi all'amianto e di dare un senso ancora più grande a quello che sorgerà poi in quest'area cioè al parco della rinascita. Gli studenti, i giovani artisti e artisti produrranno dei progetti, delle opere che saranno esposte a Spazio Murat a partire dal 20 ottobre e che quindi potremo vedere insieme. Se poi il comune deciderà che alcuni di questi progetti possano essere realizzati su quest'area naturalmente sarebbe l'ideale. Tanto verde, molto spazio dedicato ad attività ludiche, allo stazionamento delle persone con comfort quindi sedute. Non possiamo fare, come ben sapete, delle edificazioni e ci sarà tutto un sistema di viali che metterà in connessione fra di loro quartieri che da sempre si sono visti ma non hanno mai interagito. Ci sarà anche una passerella, quindi un collegamento aereo che scavalcherà i binari oggi di Ferrovie Sud-Est, domani di Sud-Est e di RFI in modo tale da poter collegare direttamente la zona di San Pasquale con quella di Apigia.